Comincia la settimana di Natale, benvenuti, grazie per essere con noi e per avere scelto anche oggi questa edizione del telegiornale di Esperia che apriamo con l'abbattimento attraverso 360 e quasi 400 kg di dinamite di quello che è conosciuto come Palazzo Mangieruca, Torre Melissa, un ecomostro e dopo 16 anni dal sequestro adesso non c'è più. Per noi ci è andato Massimo Carlozzo. In appena due secondi e grazie a 360 kg di esplosivo dopo 16 anni dal sequestro, uno dei simboli del potere mafioso in Calabria è venuto giù domenica 17 dicembre alle 13.19. Così appena Palazzo Mangieruca, l'ecomostro di Torre Melissa in provincia di Crotone realizzato dall'Andrangheta si è adagiato sul lato ed è venuto giù in una nuvola di polvere detriti, liberando l'orizzonte dalla sua mastodontica struttura di cemento, è scoppiato un lungo applauso. Era un edificio abusivo di sei piani e steso oltre 6.000 metri quadrati, realizzato lungo la strada statale 106. Dimostra che lo Stato in Calabria è più forte dell'Andrangheta, è più forte della prepotenza dei poteri criminali e peraltro è bello abbattere un immobile costruito dall'Andrangheta ma in modo abusivo. Gli immobili dell'Andrangheta vanno rivalutati quando si può fare, quando invece sono costruiti abusivamente come tutti gli abusi edilizi vanno abbattuti. La regione ha finanziato questo abbattimento e la rigenerazione di quest'area attraverso un camping. La regione assume l'impegno di finanziare tutti gli abbattimenti di immobili costruiti dall'Andrangheta e di rivalutare le aree dove questi immobili erano stati costruiti per dimostrare che oggi c'è un'altra Calabria, una Calabria che per fortuna viene raccontata da un po' di tempo in maniera diversa rispetto a come era in passato ma dobbiamo continuare con determinazione e anche con coraggio. Laddove c'era l'ecomostro adesso sorgerà un'area camper. Quindi la possibilità di avere un'ulteriore struttura turistica che possa migliorare le performanze della mia comunità. Quindi abbiamo mantenuto l'impegno grazie a questo finanziamento della regione Calabria, 700 mila euro che ci daranno la possibilità di abbattere e cancellare questo brutto scarabocchio che per 40 anni ha segnato questo lembo di Calabria e quindi costruire questa infrastruttura turistica. Sostanzialmente oggi è la dimostrazione che anche in Calabria si può passare dalle parole ai fatti e qui a Melissa oggi sta succedendo. Poi addirittura abbattere un ecomostro costruito dall'Andrangheta e quindi anche in questa direzione è un segnale che nessuno può più permettersi in questa terra di fare delle cose che non rispettano le regole, non rispettano la normalità. Non c'era solo Roberto Chiuto, il sindaco di Torre Melissa, Raffaele Falbo, c'erano i vertici dello Stato. Sentiamoli. Palazzo Mangieruca, adibito a Mobilificio, venne sequestrato nel 2007 a Costantino Mangieruca, ritenuto esponente della cosca farao marincola di Ciro, nell'ambito dell'operazione Piazza Pulita, definitivamente confiscato, nel 2012. Con la sua demolizione è tornato fruibile il meraviglioso panorama tra i vigneti ed il mare. Alla demolizione, curata sinne minimi particolari dall'azienda Lavori Stradali di Crotone, hanno partecipato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il Vice Ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi. È la vittoria della legalità dello Stato e delle istituzioni sull'arroganza malavittosa e criminale. L'abbattimento dell'ecomostro Mangieruca è un simbolo per tutti, non solo per la Calabria, ma per tutti i cittadini per bene, che sono la stagante maggioranza della Calabria e dell'Italia. Ed era importante che anche il Governo fosse presente, perché questo è un Governo che ha fatto della lotta alla criminalità organizzata uno dei suoi punti fondamentali. La Giunta regionale nel 2022 ha posto fine a tutto questo. L'importante è che oggi si afferma, ma il Governo è presente, come vedete, in massa, si affermi il rispetto delle regole. L'Andrangheta non può pensare di costruire illecitamente un immobile e noi restituiamo questo territorio all'Italia, alla Calabria, ai cittadini. E questo mi sembra un passo estremamente rilevante. Non basta. È uno dei passi. I passi non finiscono mai nei confronti delle organizzazioni criminali. Lo Stato deve dare l'idea concreta, anche con la presenza, che questa è una lotta in cui non ci si può distrarre. Mi piace anche in questo momento pensare che sia un atto d'omaggio a tanti servitori dello Stato che in questa terra sono morti. Per quello che riguarda l'arma, dieci carabinieri sono stati trucidati dall'Andrangheta per la legalità di questo territorio. Oggi lo Stato è forte, è più forte del passato. Le forze di polizia fanno, continuano a fare indagini molto importanti sotto la direzione della magistratura. Abbiamo un quadro normativo di primissimo piano. A livello nazionale, solo quest'anno, vi do un dato che riguarda i carabinieri, sono stati arrestati oltre 500 mafiosi appartenenti alle varie consorterie. Un altro dato che secondo me è importante è attinente al sequestro dei beni illicitamente accumulati dalle organizzazioni mafiose. Solo l'arma ha sequestrato oltre 500 milioni di beni. Sequestrare e confiscare i beni alle consorterie mafiose significa in parte contribuire al loro depotenziamento, ma soprattutto significa distribuire sul territorio beni che erano destinati a finalità criminali, destinarli a finalità tendenzialmente sociali o comunque a strutture di forze di polizia o comunque di associazioni onlus o quant'altro. Una nota di crona che ha visitato una donna, ne ha attestato la cecità assoluta, ma era morta 19 giorni prima della data di questo consulto e per questo motivo un medico della provincia di Vibo è stato raggiunto da un provvedimento del GIP su richiesta della procura per interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio perché appunto ritenuto responsabile di falsa perizia. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile e nasce dalla denuncia presentata dalla direzione provinciale dell'Inps. Praticamente l'Inps ha segnalato questa condotta tenuta dal professionista e quindi il perito ha prodotto la relazione alla quale dava atto appunto di avere visitato questa interessata, di avere riscontrato che era affetta da cecità assoluta, però dalla documentazione è emerso che la donna non avrebbe mai potuto essere visitata dal consulente tecnico proprio perché è deceduta 19 giorni prima. Le vertenze che riguardano i lavoratori calabresi, una in particolare quella della Serravalle Energy, si è tenuto un sit-in che abbiamo seguito. I lavoratori della centrale Biomasse Serravalle Energy di Cutro hanno inscenato un sit-in di protesta davanti la prefettura di Crotone, le ragioni della manifestazione dalla voce dei rappresentanti dei sindacati. Questa è un'ulteriore vicenda che parla di un rischio serio, di una perdita di circa 150 posti di lavoro, tra diretti, indiretti e indotto. Credo che questo territorio in generale non si possa permettere ulteriori strappi di carattere sociale. Spieghiamo bene qual è il problema. Allora, diciamo che stiamo parlando di un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse. Questi impianti per tipologia di costruzione e per andamento di produzione necessitano obbligatoriamente di incentivi statali per il mantenimento. Perché non arrivano? Tutto si rifà ad una indagine giudiziaria che è partita qualche anno addietro e che ha coinvolto la proprietà dell'impianto del quale stiamo parlando e quindi l'arrivo di commissari giudiziari nella gestione della centrale. Per una serie di motivazioni che comunque si riconducono all'indagine il GSE, che è il gestore del servizio elettrico, che è l'ente deputato al riconoscimento degli incentivi e quindi alla loro erogazione, ha comunicato ufficialmente che dal 1 gennaio del 2024, per motivi precauzionali, questi incentivi non saranno più corrisposti. Quindi significa segnare il destino della centrale. Ora, quello che noi stiamo denunciando oggi non è tanto la procedura burocratico o l'esercizio di una prerogativa legittima da parte del GSE. A livello istituzionale vogliamo innalzare questa preoccupazione, perché si parla di posti qualificati di lavoro che si perderanno in un territorio particolare. Avete chiesto un incontro? Abbiamo chiesto un incontro e la terza richiesta di incontro, l'ultima fatta qualche ora fa, in quanto riteniamo che il prefetto debba convocarci per alzare il livello di attenzione sull'aspetto sociale che ha questa vertenza. Crediamo che il sit-in abbia questo tipo di ragione e questo tipo di obiettivo. Riaperta alla circolazione, dopo tre ore di traffico bloccato in entrambe le direzioni, fra l'altro, la Galleria Limina è un tunnel di oltre tre chilometri lungo la strada Ionio-Tirreno, arteria che nel Reggino unisce la Salerno-Reggio e i comuni della Piana di Gioia-Tauro con i centri della Locride. La chiusura, come vedete, si è verificata domenica sera dopo una segnalazione della Polstrada che ha rilevato pezzi di cemento che si erano staccati dai cornicioni che compongono la parte alta dell'ingresso, il lato mammola, per mettere in sicurezza la parte interessata dai crolli e quindi poter riaprire al traffico veicolare, sono intervenuti alcune squadre ai vigili del fuoco e gli operai dell'ANAS. La formazione degli OS, istituti professionali, è stato siglato un protocollo d'intesa con l'USR da parte della Regione. Vediamo. È stato sottoscritto in cittadella regionale lo schema di accordo triennale tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario. I corsi di formazione saranno attuati negli istituti professionali per la sanità e l'assistenza sociale della Calabria e negli enti di formazione accreditati dalla Regione. Il protocollo consentirà per la prima volta in Calabria il riconoscimento delle ore maturate durante il percorso scolastico, consentendo agli studenti di accedere al corso di qualifica per operatore socio-sanitario proposto dall'Agenzia di formazione accreditate con cui le scuole dovranno definire specifici accordi. È una pagina importante quella di quest'oggi perché al momento noi abbiamo in Regione Calabria dieci istituti professionali con indirizzo socio-sanitario ma che non danno alcuna qualifica per cui i ragazzi al termine del percorso vengono equiparati ai ragazzi frequentanti qualsivoglia istituto della Regione Calabria. Noi grazie all'assessore calabrese d'intesa con l'ufficio scolastico regionale abbiamo dato dignità agli studenti e quindi agli indirizzi socio-sanitari della Regione Calabria. Infatti permetteremo attraverso un percorso integrato che andrà ad essere realizzato attraverso apposite convenzioni con gli enti professionali riconosciuti dalla Regione Calabria permetteremo che i ragazzi riescono a conseguire la qualifica di OSS per cui diamo dignità professionali a questi istituti, avviciniamo gli studenti al mondo del lavoro perché i ragazzi concluso il percorso quinquennale attraverso l'esame di qualifica potranno direttamente avere la qualifica e mettersi nel mondo professionale. Il protocollo è un'occasione importante, abbiamo lavorato con la Vicepresidente Princi prima in prima battuta per un primo accordo con l'IFP in generale e poi abbiamo quindi in seconda battuta visto questo protocollo d'intesa per le figure di operatore socio-sanitario perché era un'occasione importante per la nostra Regione per vari motivi. Uno perché ovviamente il momento storico richiede ovviamente delle figure che abbiano delle qualifiche particolari nel contesto appunto socio-sanitario, ma come in questo periodo queste esigenze ovviamente sono in qualche modo evidenti e poi perché è anche un'occasione per dare ai nostri ragazzi degli strumenti in più per delle occasioni di lavoro. Ribadisco sempre che la scuola non è ovviamente un posto dove sforniamo lavoratori, la scuola è una realtà dove in qualche modo si danno ai ragazzi le competenze, le possibilità poi di inserirsi nel mondo del lavoro, ma in realtà appunto questa è un'occasione, appunto uno strumento in più che diamo ai nostri ragazzi per potersi inserire nel contesto lavorativo e sicuramente in un contesto che ha bisogno di lavoratori. Si chiama Greenland, è un progetto di sviluppo sostenibile, ci sono risorse europee, ci sono sette paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che sono stati coinvolti e fra l'altro la Calabria è ente capofila. Vediamo. Grecia, Portogallo, Libano, Egitto, Giordania, Palestina con la Calabria capofila insieme per fornire competenze sull'economia verde circolare, immaginando un Mediterraneo inclusivo e verde con l'obiettivo finale di promuovere un'occupazione sostenibile, in particolare nelle categorie svantaggiate, questo in sintesi l'evento conclusivo del progetto Greenland che si è tenuto in una tra i giorni presso la cittadella regionale. Andare a mettersi al centro del Mediterraneo, coinvolgere tutte le sponde, con progetti specifici rivolti alle classi più deboli, a quelle che vanno osservate con maggiore attenzione e a quelle andare a trasferire le competenze relative ai nuovi mestieri, all'economia circolare, al Green, diventa chiaramente un progetto premiante che va ad incidere su due aspetti fondamentali. Uno, tutte le politiche di transizione e secondo le politiche per i giovani e per chi è più debole. La più grande iniziativa di cooperazione transfrontaliera del Mediterraneo, è attuata dall'Unione Europea che vede l'ARSAC che, avvalendosi della propria diffusione capillare sul territorio calabrese e la conoscenza del contesto regionale, aver individuato i settori in cui far svolgere le attività formative. Però il vero auspicio è quello che, in un futuro, queste persone formate con l'aiuto di questo progetto possono trovare reale sbocco nello sviluppo delle economie sostenibili, speriamo in Calabria e negli altri paesi coinvolti. Assessore, dalle sue stesse parole oggi è stata scritta una nuova pagina, una bella pagina per la nostra Calabria, la Calabria che ha bisogno di sfruttare le proprie risorse e quindi energia rinnovabile. E soprattutto di trasferirlo a chi probabilmente non sa cosa si possa fare in queste aree e in questi territori e invece probabilmente attraverso queste azioni riesce a scoprirlo. E quindi l'idea di costruire un sistema di consapevolezza diffuso in un'area del Mediterraneo nella quale invece ci sono emergenze gravissime, credo che sia un obiettivo di grande rilievo e di grande valore raggiunto da questo progetto che sicuramente avrà delle prosecuzioni. Ammonta a 152 mila euro, lo ha comunicato la BNL, la somma di donazioni che è stata raccolta in Calabria a sostegno della campagna a favore di Teleton. Al primo posto per contribuzioni la provincia di Reggio Calabria, è stata raccolta più o meno la metà della somma, e poi Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo. A livello nazionale la raccolta 23 è arrivata a 8 milioni e 200 mila euro e grazie a questa collaborazione sono stati supportati finora 2.960 progetti di ricerca con 1.720 ricercatori coinvolti e 630 malattie studiate. E a parlando di malattie, adesso apriamo anche una pagina di medicina. All'Apollo di Crotone si è parlato di endometriosi. Endometriosi, una patologia che colpisce quasi il 10% delle donne italiane e che presenta aspetti ancora poco conosciuti per via della complessità e delle difficoltà diagnostiche. L'endometriosi presenta inoltre criticità e percorsi differenziati dal punto di vista terapeutico, dato che i diversi stadi della malattia e la diversa tipologia delle pazienti che ne soffre richiedono approcci e trattamenti diversificati. Di tutto ciò se ne è parlato a Crotone, al Teatro Pollo, alla presenza di una sala gremita di studentesse dei quattro istituti superiori della città. Oggi è fondamentale fare informazione, specialmente con le giovani donne, perché questo è l'unico modo per trattare veramente questa patologia, per fare in modo che non si arrivi alla chirurgia, perché sembra assurdo ma detto da chi fa chirurgia, io dico sempre un buon chirurgo è quello che cerca di non operare le pazienti e per non operare le pazienti devi informare le giovani donne sui sintomi affinché possono essere individuati tempisticamente in maniera preventiva e fare in modo che la patologia non vada avanti, non causi gravi rischi per la salute e non possa comportare poi uno stato di infertilità che inficia naturalmente poi la vita di queste donne, anche nella loro vita quotidiana e anche nella loro vita sociale. Quindi è fondamentale e ringrazio per questo l'Associazione APE, oltre che tutta la Regione Calabria che si è messa a disposizione, perché è l'unico vero modo per trattare la patologia al di fuori, dei trattamenti medici al di fuori alla chirurgia, e informare queste ragazze che devono imparare quali sono i sintomi e che devono individuarli in tempo per fare in modo che possiamo aiutarle in maniera giusta. Oggi con questo incontro abbiamo cercato di dare quante più informazioni possibili alle ragazze, perché dall'informazione si crea la consapevolezza. Se io sono consapevole di quello che mi accade, soprattutto nel corpo, a partire da un'età appunto così giovane che è l'adolescenza, che poi è l'età d'esordio di una possibile endometriosi, io sono consapevole e quindi io so come agire, come prevenire e soprattutto in che modo intervenire, perché le ragazze devono affidarsi a delle figure che siano delle figure di riferimento e anche delle figure che possano poi essere delle figure professionali. L'associazione nasce quasi 20 anni fa per volontà di alcune donne affette di questa patologia, proprio per la necessità di divulgare una patologia che è molto diffusa, colpisce una donna su 10, ma che ancora ad oggi ha un ritardo diagnostico di circa 7-10 anni. Quindi l'associazione attraverso alcune iniziative porta a conoscenza, in modo particolare le giovani donne, perché sono le donne di domani, quindi il futuro, di che cos'è la malattia, di quali sono i suoi sindomi, quali sono i campanelli d'allarme che devono comunque farci sospettare o comunque prendere coscienza che esiste questa malattia e poi rivolgersi a un centro specializzato. Adesso la pagina dello sport, vediamo come è andata per le calabrese, insomma per alcune è benissimo, per altre invece è male. La copertina della giornata sportiva calabrese questa volta se la prende con merito il Crotone. La formazione Rosso-Blu, guidata in panchina da Bardi per la squalifica di Zauli, a Monopoli centro una larga e convincente vittoria che allunga la serie positiva a 10 risultati, con la formazione crotonesi che si arrampica al terzo posto in classifica. È stata una vittoria importante perché comunque giocavamo contro una squadra che a parte l'ultimo periodo ha fatto molto bene, ha battuto anche squadra importante, quindi questa vittoria assume un valore ancora più grande. È una vittoria importante perché ci proietta ancora di più verso le zone della classifica che ci competono e questo va a tutto merito del mister e dei ragazzi che a vedere di lavorare in settimana comunque lasciamo sempre tranquilli perché siamo consapevoli che quando entrano in campo faranno delle buone prestazioni. Le note dolenti arrivano dalla serie B. Il Catanzaro ad Ascoli inciampa come a Como. Contro una formazione rognosa come quella a Scolana, la formazione di Vivarini, orfana di Iemmello, non riesce a esprimere la migliore qualità, ovvero il fraseggio nel gioco. I padroni di casa la risolvono grazie a Mendes e fino alla fine riescono a gestire le poche idee di un Catanzaro che denota limiti quando le partite diventano sporche e cattive. Ora i giallorossi proveranno a rifarsi in casa nel prossimo turno contro il Brescia. Il Cosenza in casa contro la Corazzata Parma non va al di là dello 0-0 ma non concretizza la superiorità numerica arrivata dopo solo 6 minuti del primo tempo. Solo sporadicazioni per il Rosso-Blu, il solito palo colpito e niente di più mentre il Parma per lunghi tratti della gara ha messo in difficoltà la formazione di Caserta. Delusione tra i tifosi che vedono un futuro tutt'altro che roseo. Ora la classifica vede i lupi a soli 3 punti dalla zona play-out e la prossima trasferta sarà quella di Bari. Non certo una passeggiata. E chiudiamo con la vittoria in trasferta del rarinante Scrotone. Luce Auditore nella Serie A2 di Pallannuoto che vince anche contro il Latine. Adesso comanda la classifica in battuta con 17 punti e una gara da recuperare. Adesso vediamo che tempo farà grazie a Trebimeteo. Ben trovati da Nico Schiodetto. Previsioni per la giornata di martedì. Un'enorme palla anticiclonica interesserà l'Europa centro-medionale con stabilità a specie tra Italia, Sud, Francia, Portogallo e Spagna. Andiamo al dettaglio perché appunto questo campo di alta pressione interesserà tutto il nostro paese a parte l'estremo sud. Pantelleria e Lampedusa con nuvolosità e precipitazioni. Zoom e precipitazioni appunto le piogge sul Mediterraneo centrale tra la Tunisia, Pantelleria e poi anche Lampedusa. Resto del paese invece con assenza di precipitazioni. In sintesi la mappa dell'Italia. Possiamo vedere di fatto una bella giornata. Da nord a sud c'è lì sereno poco buolosi, qualche nebbia di notte in Valpadana. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti sull'app di Trebimeteo. Sono le 14.23, grazie, non andate via. Fra poco c'è Luigi Saporito col suo Smart Sport del lunedì e quindi tutti i particolari di approfondimenti, tanti ospiti ovviamente in diretta e potete mandare anche tanti messaggi e poi niente, noi se volete ci vediamo più tardi alle 5 e mezza.